Questo programma è offerto da... Amici di Orrace TV, ben ritrovati per un altro nostro super appuntamento dedicato naturalmente al mondo del motorsport. In questa puntata vi parleremo di uno dei campionati di rilievo di questo 2017. Vi sto parlando della Midget Italian Series. Oggi abbiamo con noi gli organizzatori e i campioni di questo bellissimo campionato che a Monza si è concluso. Noi c'eravamo, gli ospiti sono venuti a trovarci all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia, quindi saranno tantissimi gli approfondimenti su questa serie che quest'anno ha fatto non bene di più. Per parlare di tutto questo, naturalmente, le Supergirl all'interno delle nostre trasmissioni non possono mai mancare. Oggi abbiamo la luce guida in questo sentiero, Ludovica Pagani. Ciao, Ludo. Ciao, Ricci. Che presentazione. Hai visto che presentazione. Bentornati, telespettatori. Allora, Ludovica sta avendo un successo strepitoso sia all'interno, naturalmente, delle nostre trasmissioni ma anche sui social. Stai vivendo un'annata e un periodo veramente molto fortunato, eh, Ludo? Sì, davvero molto fortunato. Quindi ringrazio tutti quelli che mi seguono e mi sostengono veramente dal cuore. E i nostri piloti, quando devono venire, sanno che c'è Ludovica, vengono di corsa, in tutti i sensi. Ma andiamo a presentare gli ospiti, cara Ludo. Oggi, in primis, abbiamo con noi Frederick Lupo, che è l'organizzatore, appunto, di questa serie molto fortunata. Il tuo lavoro è stato strepitoso. Frederick, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Arrivi da Monza col sorriso, perché avete chiuso una stagione fantastica. Sì, sì. Diciamo che è una stagione chiusa in bellezza, con grandi partecipazioni, uno sport corretto, delle gare spettacolari, finite veramente al millesimo. Quindi uno spettacolo eccezionale quest'anno. Ne parleremo a lungo. Di fianco a te, in questo primo blocco, ci sono i due veri protagonisti del campionato italiano, Midget Italian Series 2017. Abbiamo con noi il campione per quanto riguarda la serie B, che poi capiremo cosa vuol dire serie B. Comunque lui è un pro. È con noi Lorenzo Marcucci. Ciao, Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Campione di questa classe. E di fianco a lui non può di certo mancare chi si è imposto nella serie A, quindi AM. È con noi il super Claudio Giudici. Ciao Claudio. Buonasera a tutti. Prima di iniziare volevo chiedere, ma andate d'accordo in pista? Siete amici o coltello tra i denti? Non abbiamo mai corso uno contro l'altro quest'anno, quindi... No, dico nel paddock. Comunque avete un bel rapporto, visto che dietro le quinte, insomma, non vi siete accoltellati. Ecco, Frederick, vorrei chiederti un bilancio di questo 2017. Insomma, com'è andato? Un anno quest'ultimo che ha messo in evidenza comunque la bontà del progetto, dei partner che ci sono dentro, dei team che sono entrati nel campionato, con un livello che si è alzato sia a livello, diciamo, tecnico che dei piloti che si sono schierati. Un numero di macchine è sempre in crescita, quindi il bilancio di questa stagione è sicuramente molto positivo. Quindi con l'ingresso di anche tanti piloti giovani che si sono sfidati e hanno portato il livello del campionato sempre più su. Quindi molto interessante quest'anno. Beh, a proposito di livello che si è innalzato, questo è dovuto anche a delle grandi squadre di grande livello, giusto? Come la Cramo Motorsport che arriva dalla World Series e dalla Formula Renault 2.0. E quindi questo sicuramente, come dicevi, ha innalzato il livello. Sicuramente. È un team molto professionale che proviene quindi da serie, diciamo, più blasonate della nostra. E ovviamente questo porta comunque della competenza, della notorietà e tutto quello che serve alla serie per crescere. Fredrik, come nasce il concetto midget? Sappiamo che con costi comunque molto contenuti si può correre e come testimoniano le immagini alle nostre spalle, i duelli che ci sono poi in pista, in ultimo Monza, sono veramente entusiasmanti. Sì, la midget è una serie francese nata quindi in Francia nel 2012 con l'intento di mettere a disposizione un veicolo estremamente divertente in termini di guida con dei costi di gestione, diciamo, sono molto raccolti. Quindi questa peculiarità ha fatto sì che la serie si sia sviluppata un po' dappertutto nel mondo. Considera che ci sono quasi 300 vetture in giro per il mondo con serie, per intenderci, in Francia, Italia, Germania, Stati Uniti, Russia e Danimarca. Righi, se sei d'accordo io vorrei passare ai protagonisti della serie e vorrei iniziare da Lorenzo, vincitore della classe B riservata a piloti professionisti. Vorrei chiederti come è andata questo atto conclusivo a Monza. È andata meglio di quanto pensassi, mi presentavo a Monza come leader del campionato però era una lotta serrata con Davide Di Benedetto che era il secondo in quel momento. Per fortuna sono riuscito a vincere entrambe le gare e a fare anche la pole position quindi è andata benissimo, abbiamo coronato questa stagione stupenda con due vittorie. Infatti abbiamo visto che veramente non ti ha regalato niente nessuno però sei stato molto bravo a ottenere il titolo proprio a Monza. Ora io la parola la passerei a Claudio che si è imposto invece nella classifica B. Anche lui a Monza è riuscito appunto a coronare il sogno di diventare campione. Anche per te vorrei che appunto ci parlassi di questa stagione 2017. Per noi è stata la prima quindi è un po' una sorpresa molto gradita. Monza è un weekend strano perché io avevo un buon vantaggio però correre la prima gara sull'acqua è stato abbastanza non difficile però c'era da fare attenzione e io quindi mi sono molto protetto con il piede che veniva su nei momenti giusti perché è più intelligente di me. Poi gara 2 insomma siccome avevamo già vinto matematicamente poi abbiamo potuto farla briga sciolta e da lì insomma siamo divertiti perché abbiamo tutti quanti tutto quindi duelli, toccate, sorpassi, staccate al limite e divertente. Claudio appunto parlava di una fortissima pioggia che c'è stata e noi abbiamo visto quanto è stato difficile anche gestire la situazione lì a Monza. Assolutamente con le midget sicuramente non è facile perché è veramente una macchina abbastanza nervosa se possiamo dirlo. Ecco e quindi come hai improntato questa corsa? Intanto guardando gli specchietti perché in gara ovviamente è molto importante devi fare la tua attenzione per gli altri qualora loro magari siano più concentrati su quello che andava avanti. Sulla pioggia devi riuscire a mettere le ruote nel punto giusto cercando sempre di rimanere in pista perché è un attimo sbagliare però devo dire che andando molto tranquillamente abbiamo portato a casa i punti necessari per laurearci i campioni con una gara d'anticipo quindi non mi lamento. Quindi avete riscontrato difficoltà, come sono da gestire le midget in queste situazioni con un clima così sfavorevole? La midget per quanto mi riguarda è una macchina che da guidare è stupenda perché dà tanta sicurezza e ricorda un po' un kart con le sospensioni. Sull'acqua ovviamente l'aderenza è più bassa però noi abbiamo gomme apposta perché sono gomme da bagnato più morbide quindi più adatte e secondo me dipende molto da come ti trovi tu. Se la macchina ti dà sicurezza anche sul bagnato sei più tranquillo nel condurla. Ovviamente devi conoscere la pista, devi essere in grado di leggerla però è stata divertente anche da guidare in queste condizioni nuove perché quest'anno abbiamo sempre corso col caldo e il sole. Ecco Lorenzo, Claudio ci ha parlato di kart che è una macchina un po' simile a un go-kart ma con le sospensioni. Tu arrivi proprio dal mondo del karting, ti sei trovato subito a tuo agio con questa vettura? Beh sì, io personalmente mi sono trovato bene sin da subito. È una vettura diciamo all'inizio può sembrare facile da guidare e da gestire i problemi vengono quando devi cercare di andare forte al limite e lì non è facile da capire, bisogna starci sopra per un po' di chilometri e acquisire la giusta esperienza e non credo che sia tanto un problema per chi arrivi dal kart quanto più per chi magari arriva da macchine più potenti e più pesanti come i GT lì devi cercare di resettare un po' i tuoi parametri di guida e adattarti a questo tipo di vettura che monta gomme semiscolpite che ha un cambio sequenziale e che diciamo ha zero controlli quindi devi essere bravo a saperla gestire. Lorenzo, chi è stato il tuo più grande rivale quest'anno? Beh è stato Davide Di Benedetto senza dubbi che è stato anche il campione dell'anno passato con lui abbiamo avuto una bellissima stagione tanti duelli sempre corretti devo dire poi in quest'ultima gara Davide ha avuto qualche episodio sfortunato io invece sono riuscito ad allungare diciamo a fare il passo decisivo per il campionato comunque quest'anno sono riuscito a vincere sette gare su dodici e questo è sinonimo di grande competitività quindi sono molto contento sia di aver battuto un avversario forte come Davide e sia di aver primeggiato comunque nel campionato. Stessa domanda la vorrei fare al nostro Claudio Giudici. Noi abbiamo fatto una stagione un po' diversa perché eravamo in tanti a giocarci le prime posizioni con più bagarre diciamo che le nostre gare sono un po' più movimentate. Avversari principali direi appunto la Cram con Luca Segu che a parte tutto ha fatto una stagione pazzesca molto veloce, molto forte però poi qualche problema di affidabilità e qualche errore di troppo in pista gli ha portato sfortuna. Per il resto all'ultima gara eravamo in otto ancora a poterci giocare il campionato a livello matematico quindi questo dimostra quanto siano aperte e combattute queste serie. E poi soprattutto i compagni di squadra di Lorenzo cioè Roberto Benedetti e Francesco Malvestiti di The Club che sono rimasti in lizza fino alla fine sempre con grande correttezza quindi nessun genere di rimostranza. Bene, quindi vi siete proprio divertiti e ha vinto il migliore. Una curiosità mia Fredrik tra la classe A e la classe B quanti secondi di margine ci sono? Questa magari è anche una nozione che diamo ai nostri telespettatori. Sì, in verità non ci sono secondi in termini decimi. Ah, ok, quindi girate quasi uguali. La differenza da regolamento è mezzo secondo quindi sì, c'è pochissima differenza. Diciamo A e B si chiama così perché solo per chi inizia in questa categoria. Solo per definirli perché in verità sono tutti veloci. Ah, bene, questa è un'altra cosa importante. Sempre con te, Fredrik, dacci un tuo giudizio su Lorenzo e Claudio. Sì, buono, sì, buono. Allora, sì, sicuramente sono tutti e due diciamo dei piloti che guardano al risultato finale. Abbiamo esempi di piloti che sono altrettanto veloci ma che hanno una visione diciamo di gara un po' più ristretta. Quindi i risultati che hanno fatto e la costanza nei risultati è legata anche a questo. quindi hanno veramente della stoffa per arrivare al risultato per vincere il campionato. Quindi hanno velocità e costanza nei risultati e visione della gara. Quindi sono maturi diciamo veramente in termini di vita e come persone. Bene, bene. Cara Ludo, il nostro primo blocco è quasi finito. Ora io direi di salutare i campioni 2017 della Midget Italian Series e vorrei iniziare col farlo da Lorenzo Marcucci al quale li vorrei chiedere anche se ha dei ringraziamenti da fare. Assolutamente. I primi di tutti il mio team il team con cui ho corso il team The Club di Roma e Fabrizio Armetta in particolar modo per aver creduto in questo progetto. Siamo un team completamente nuovo siamo nati nel 2015 assieme alla Midget però siamo cresciuti rapidamente e siamo riusciti ad arrivare a questo importante risultato. quindi a loro va il mio più sentito ringraziamento oltre che chiaramente ai miei sponsor e chi mi supporta da vicino ecco la mia famiglia che mi segue sempre durante le gare. Bene, per te Claudio? Il rubo alla battuta prima di tutto la squadra perché siamo cresciuti insieme durante la stagione abbiamo avuto sempre un po' di difficoltà qua e là ma abbiamo alla fine ben risolto. Poi vabbè ovviamente mio padre che è dietro le quinte gestisce, fa quasi più chilometri lui a piedi che io in pista e poi sempre sponsor amici quant'altro però questi qua. Bene, bene, bene. Chissà se rivedremo cara Ludo i nostri super driver l'anno prossimo ancora nella Midget e sicuramente se ci saranno saranno due driver da tenere sicuramente in considerazione. Noi andiamo un attimino in pubblicità grazie mille ragazzi grazie a voi buonasera complimenti e bocca al lupo per il futuro. MECOMER azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali da oltre 50 anni al servizio delle imprese www.mecomer.it Signori benvenuti a bordo il viaggio può iniziare mettetevi comodi Nini Virta velocità sicurezza affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale Nini Virta un servizio chiavi in mano logistica distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi dal 2007 magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni Nini Virta la prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica Nini Virta da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi www.ninivirta.it drivers communication l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team sviluppiamo brochure logo video e siti web per la tua immagine scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport scopri tutti i servizi su driverscommunication.it il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebrezza di una vettura da corsa il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg vuoi stupire? regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista per informazioni www.iltuosogninpista.it Monza Trackday ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza dando sfogo liberamente alla tua passione e allora vuoi testare le tue doti di driver? vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Trackday 2017-2018 vieni a correre nel tempio della velocità di Monza non farlo in strada Amici di On Race TV ben ritrovati nei nostri studi televisivi di Sport Italia per raccontarvi un po' il dietro le quinte di uno dei campionati più belli affascinanti di questo 2017 la Midget Italian Series che si è rilevata come campionato più importante se vogliamo sia a livello nazionale che è internazionale con noi sempre è Frederick Lupo patron Midget ma cara Ludovica ci è venuto a trovare un altro super ospite lui è Michele Maluccelli che si è imposto nella classe Under 20 esatto e non è assolutamente nuovo il mondo dei motori poiché è il fratellino di Matteo che è uno dei piloti più veloci alla guida della Ferrari 488 GT3 e come si dice buon sangue non mente infatti Michele è il vincitore appunto come dicevi della categoria Under 20 nella serie Mijat 2017 allora come è andata quest'annata? Innanzitutto buonasera a tutti è andata molto bene ha superato le mie aspettative soprattutto nel finale di stagione dopo l'anno scorso in cui è stato più che altro un apprendistato il mio primo anno nel motorsport quest'anno abbiamo vissuto un'annata di esperienza che è andata sempre in crescendo siamo partiti a Imola con risultati non positivi ma abbiamo chiuso con gli ultimi due appuntamenti di Vallelunga e Monza in cui ho ottenuto la mia prima vittoria e a Monza due podi il secondo con vittoria sfiorata per pochi millesimi quindi molto soddisfatto bene ecco Michele ma la presenza in famiglia di avere un fratello così veloce e naturalmente coinvolgendo anche vostro padre quanto ti ha aiutato per l'avvicinamento al mondo del motorsport? beh il mondo del motorsport è un mondo di famiglia praticamente a partire già da mio nonno poi mio padre e mio fratello abbiamo sempre vissuto nei paddock e nel mondo delle corse quindi è stato un avvicinamento naturale già ho iniziato da piccolino con i kart e adesso ho fatto il salto nella midget nella midget quindi sempre rimanendo in tema della famiglia quanto è importante per te il supporto di tuo papà e dei tuoi genitori che ti accompagnano sempre in pista? beh è senza dubbio molto importante soprattutto quello dei miei genitori che mi sostengono e anche anche il team per cui corro è il team è il team di mio padre quindi è molto importante quante macchine avete? abbiamo iniziato la stagione con due macchine poi dopo purtroppo l'abbiamo terminata con una sola solo la tua? sì la mia del mio compagno che è un ragazzo che è giovane come me ha solamente un anno in più di me di Roma che ha corso nella categoria come si chiama? Francesco De Luca Francesco De Luca che salutiamo ecco Fredrik avere piloti così giovani Michele ha 19 anni che però arrivano nella tua categoria a correre e vanno così forte penso che il progetto ti renda ancora di più orgoglioso esattamente così nel senso che è la dimostrazione che il progetto funziona che porta avanti dei talenti li fa crescere li migliora noi abbiamo avuto durante diciamo questa stagione 9 piloti che provengono o dal kart o hanno intorno ai 20 anni o anche di meno quindi è proprio una formula che li va a prendere li fa crescere gli insegna a guidare perché è una vettura che non ha controlli e comunque una macchina corsa quindi trazione posteriore va gestita rispetto alle derivate di serie diciamo che attualmente ci sono sulle piste la midget è sicuramente molto più formativa quindi è un campionato che prende degli appassionati che vogliono diventare piloti e li fanno arrivare nei circuiti grandi importanti come quelli dove abbiamo corso voglio dire Monza Mugello Imola insomma sono circuiti mitici assolutamente noi Michele siamo curiosi di sapere come mai hai deciso di correre nella midget series beh come diceva appunto io provengo dal kart ed è stato la midget secondo me è sicuramente il passo ideale per un ragazzo giovane che viene dal kart per avvicinarsi al mondo del motorsport perché si può correre con budget limitati e la vettura ricorda molto le sembianze di un kart il comportamento di un kart ma con ma si corre in piste in piste importanti di tutta Italia insieme in concomitanza anche con la categoria GT e quindi in palcoscenici importanti e intanto ci si abitua alla velocità e alle frenate di una macchina vera ecco frederick il progetto midget nasce da un'idea un po' particolare quella di avere un telaio resistente ma allo stesso tempo semplice da regolare e soprattutto non dimentichiamo che il progetto midget va oltre i confini nazionali sì abbiamo detto appunto che una serie è nata in Francia con le prerogative di essere semplice da gestire quindi con costi di manutenzione di messa a punto limitati ha avuto un'espansione internazionale importante perché appunto diciamo che sono più di 200 quasi 300 vetture che girano per il mondo e poi questa semplicità dà la possibilità anche a team che non hanno grandissime competenze di entrare quindi hai questa duplice natura hai team come CRAM come nuovi team che stanno per entrare che provengono da mondi diciamo molto professionali e hai team che invece lo fanno per passione quindi hai due facce dello stesso campionato ma ci sarà la possibilità in un futuro di avere una serie europea? La domanda è intrigante stiamo pensando con il promotore e l'ideatore della formula francese speriamo di poter dare delle risposte a questa domanda diciamo entro alla fine dell'anno Ecco a proposito di fine dell'anno news per il 2018 c'è qualcosa che bolle in pentola ad esempio so che state organizzando dei test per tutti quei piloti che vogliono assaporare il gusto Mijer dico bene? Assolutamente abbiamo diciamo in programma dei test sulla pista di Franciagorta a partire dall'8 novembre tutti i mercoledì e abbiamo anche una quattro ore a Franciagorta il 24 il 25 novembre una gara endurance che può essere interessante per provare la macchina il mondo midget non va a dormire assolutamente no non vai letargo d'inverno si lavora e si lavora duramente caro Michele anche a te vorrei chiedere come ho fatto per i tuoi colleghi nel primo blocco che è stato il tuo rivale più agguerrito quest'anno beh rivali agguerriti per la classifica under 20 sicuramente Luca Segu e anche lo stesso mio compagno che partecipava nella categoria under 20 e per quanto riguarda la classifica piloti B che è quella in cui io poi gareggiavo verso fine anno ho iniziato a competere con Davide Di Benedetto Lorenzo Marcucci tutti i piloti che si sono contesi il titolo fino all'ultima gara quindi rivali specifici non ne ho avuti ma ho combattuto con tanti piloti beh quindi vuol dire che questi piloti caro Frederick durante il corso della stagione facendo chilometri diventano veramente molto competitivi pericolosi oserei dire per anche i big della categoria sì abbiamo visto appunto come dicevi che c'è una crescita dei piloti giovani che entrano in Midget e poi arrivano a livelli importanti insomma ecco ricordiamo caro Ludo i contatti Midget assolutamente sì per quanto riguarda i social la pagina Facebook Midget Italian Series mentre il sito internet mqcorse.it ecco lì caro Frederick ci saranno tutti i vostri contatti per prendere delle informazioni utili a tutto il mondo del Motorsport che si vuole avvicinare a questo progetto Midget che come abbiamo visto oltre a garantire delle macchine sicure e prestazionali lo spettacolo veramente lo mettete in prima fila assolutamente volevo solo ricordare che la Midget non è solo in verità una vettura dedicata al mondo dei cartisti perché noi abbiamo dei gentleman anche che guidano si fanno tutte e quattro le gare quindi è una macchina che è adatta anche a chi vuole iniziare anche chi vuole imparare crescere nel mondo dei circuiti ma non ha velleità di diventare pilota di Formula 1 quindi ha questa duplice natura ecco a tal proposito è fatto bene a lanciare questa freccia perché avete una classifica over 50 che quest'anno è stata vinta da Romagnoli esatto pilota romano di lunga esperienza che ha corso nei monomarca nel GT e che sicuramente in pista è un avversario temibile sì decisamente ecco quindi come abbiamo visto nel corso di questa trasmissione amici di All Race TV il mondo midget può dare credito e eleggere dei campioni in tutte le fasce d'età adesso abbiamo Michele Maluccelli under 20 nel primo blocco ci sono stati Marcucci e Giudici altri due piloti super veloci un po' più su di età tra virgolette dai 20 ai 30 anni e poi c'è chi come Romagnoli ok vince nella over 50 quindi veramente spazio a tutti e riconoscimenti anche giustamente a tutti assolutamente infatti è proprio per questo la natura della Midget con due campionati nello stesso weekend esattamente questo è un campionato diciamo per chi anche vuole iniziare vuole provare si vuole divertire quindi ha delle velleità competitive relative e poi un campionato una faccia diversa del motorsport più mettiamola così professionale competitivo dove si cerca il risultato che che è quello diciamo che poi lancia i piloti ecco Michele tu la prima volta che hai provato la Midget dove è stato? è stato in occasione di uno dei test organizzati da Midget a Franciacorta in cui ho fatto qualche giro poi dopo il ragazzo ti sei innamorato? sì è stata sicuramente un'ottima occasione per appunto far iniziare la mia carriera nel mondo delle corse ecco quindi ti sei affacciato al mondo Midget grazie a un test quindi anche voi che ci state seguendo da casa se volete provare il brivido di questa vettura francese insomma si può fare partendo dall'8 di novembre 8 novembre da Franciacorta bene ecco caraludo oggi abbiamo conosciuto dei grandi campioni che in questa stagione 2017 si sono messi in mostra stiamo parlando di Marcucci Giudici Maluccelli che è qui con noi in questo momento e anche Romagnoli che nella Midget Italian Series veramente quest'anno l'hanno fatta da padrone anche però a tutti gli altri piloti bisogna fare un grande complimento dico bene Fredrik sicuro perché lo spettacolo è stato veramente incredibile basta dire che a Monza le prime tre posizioni si sono chiuse in 58 millesimi aspita non si vede neanche nella 60 è impressionante lo spettacolo assolutamente bene bene cara Ludo questa settimana è tutto per noi per le nostre produzioni quindi diamo appuntamento a settimana prossima salutiamo Fredrik Lupo buonasera e il nostro super maluccelli buonasera a tutti a settimana prossima questo programma è stato offerto da un po' Grazie a tutti